La TV sta cambiando in tutta Europa. È quindi necessario risintonizzare il vostro televisore o decoder HD. Cerca sul menu del tuo telecomando la voce Impostazioni e seleziona Canali. Poi, Sintonizzazione canali. Scegli la sintonizzazione automatica su Antenna. Ordinamento automatico, ricerca Digitale e attendi la risintonizzazione. Al termine potrebbe apparire il messaggio di sovrapposizione di canali. Sarà necessario effettuare una selezione di posizione. I programmi regionali disponibili nella propria regione sono selezionabili sui canali da 801 a 823 e si possono collocare manualmente alla posizione numero 3 del telecomando. La risintonizzazione è conclusa e puoi goderti la tua nuova TV digitale. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it o rai.it nella sezione Alvia la nuova TV digitale. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvigitale.mise.gov.it o rai.it Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvigitale.mise.gov.it o rai.it